Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Segnalato poi personale su strada tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Stagno e la variante di Quercianella in direzione Roma, fino al 30 aprile, chiuso lo svincolo di Levorno Centro. Sulla statale 3 Bistiberina, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modannuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e La Lima. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!